Ciao da Massimo, sono qui a Modena. Questo è l'hotel che ospita la SpaceCon, RMH Dance Arts. La SpaceCon è una convention dedicata alla mitica serie di spazio 1999 e non solo, c'è anche Star Wars e il Fantasy. Allora seguitemi per tante tante sorprese. SpaceCon 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Vi ringrazio. a tutti.